Il tema di questa Assemblea della Comece dell'autunno di quest'anno era quasi obbligato ma più che obbligato è stato un tema molto sentito e per questo che come Vescovi abbiamo voluto concludere con una dichiarazione che è un appello alla pace. Ci siamo sentiti uniti cordialmente agli appelli del Papa e ai tanti appelli che sorgono dalla società istituzionale, dalla società civile perché questa guerra abbia termine e la richiesta e l'invito che si giunga al più presto a una tregua e si avvino dialoghi per il raggiungimento di una pace giusta. Il nostro appello si rivolge in modo particolare a chi nell'Unione Europea ha responsabilità perché l'Unione Europea ha grande parte in questo cammino di pace da svolgere.